Buonasera, benvenuti al primo evento in presenza finalmente, siamo molto felici di aver potuto riaprire e ancora più felici di poterlo fare con Marco Belpoliti, di cui stasera presentiamo la sua ultima fatica, e con Emanuele Trevi e Andrea Cortellessa con cui dialogheremo questa sera per la presentazione di questo libro. È un libro che ci interessa particolarmente innanzitutto perché tra i vari personaggi che si incontrano lungo le storie che compongono questo libro ce n'è uno che ci è particolarmente caro, che è Luigi Ghirri. Proprio in questo momento abbiamo una mostra che si intitola Senza Margine, di cui la prima stanza è dedicata a Luigi Ghirri perché con grande orgoglio abbiamo acquisito il più importante fondo di fotografie di Luigi Ghirri in un museo al mondo perché sono 250 fotografie originali dall'archivio di Lotus International con cui Luigi ha collaborato per più di dieci anni. E quello che stiamo esponendo in questo momento è una selezione di un libro che si chiama Paesaggio italiano e che lui poi ha pubblicato proprio con Lotus e che racconta esattamente quello che ritroviamo poi nelle pagine di Marco. Ma che cos'è questo libro Marco? È difficile da definire perché può essere, stavo dicendo prima Marco che l'ho trovato in libreria nella sezione letteratura di viaggio nella parte che racconta i viaggi ma è anche un saggio perché ci si incontrano tanti personaggi che sono stati importanti per la cultura italiana e che hanno questo rapporto quasi viscerale direi, di identità profonda con questa immagine, questa condizione esistenziale che è rappresentata dalla pianura. Oppure è anche un romanzo perché Marco l'ha concepito così e ci coinvolge nel racconto anche in prima persona. E questo devo dire che è una delle grandi caratteristiche che è fortemente caratterizzante del tuo stile, molto coinvolgente, che ci racconta ma ci informa e soprattutto ci fa pensare. Come sai, tanti anni con cui con Marco incrociamo le nostre strade è anche sotto il nome di Luigi. Come sai, questa forma, questa immagine della pianura, come dicevo, come condizione esistenziale è qualcosa che ci racconta profondamente di una parte del nostro genius loci. è qui per citare un libro che è appena uscito di un altro carissimo amico che è Stefano Chiodi e che presenteremo a breve e che racconta appunto una parte di una storia che fa parte di tutti noi e che in qualche modo ci racconta chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo. E quindi grazie Marco per questa opportunità e a questo punto lascerei introdurre ad Andrea con la sua testimonianza, diciamo, di quello che è il libro e poi proseguiamo. Grazie. Grazie Bertolomeo e grazie soprattutto a Marco per averci riuniti, visto che ci siamo più che altro sentiti per telefono e visti sugli schermi per tutto questo tempo. In realtà con Marco Belpoliti la mia frequentazione rimonta ormai a più di vent'anni, quindi temo che parlare di Marco sia inevitabilmente anche un po' parlare di me o per contrasto o per analogia. Diceva giustamente Bertolomeo che questo è un libro che è incollocabile dal punto di vista dei generi e non a caso è uscito appunto in una collana che si chiama Frontiere, dove Frontiere allude all'esplorazione dei luoghi a cui molti di questi testi sono dedicati, come diceva adesso Emanuele, ma è anche Frontiere tra i generi, Frontiere che negli ultimi decenni, insomma in particolare negli ultimi anni, tanti scrittori hanno voluto mettere in discussione. E sicuramente questo libro lo fa perché sì, certo, si può leggere come una narrazione, si può leggere come un'opera di saggistica, di critica, una collezione di ossessioni, un albero genealogico di eccentricità, personaggi eccentrici sia dal punto di vista geografico, sono persone di provincia, di una provincia in particolare come vedremo, ma sono eccentrici poi in realtà perché a loro volta hanno sempre superato i confini, hanno sempre orbitato in coordinate che non sono quelle consuete. Però soprattutto questo libro è un'autobiografia, un'autobiografia ovviamente a sua volta è un genere canonico, mille volte ricostruito e mille volte infranto, mille volte tradito e mille volte di nuovo ricodificato. In questo caso l'idea di Marco è di costruire la sua autobiografia sul palinzesto di una carta geografica. Questa carta geografica è riprodotta all'interno del libro che ospita altri disegni di Marco, ma in una collocazione particolare, diciamo, nel retro di copertina, negli interni delle copertine per essere più precisi, in modo che la cartina che è riprodotta sia all'inizio che alla fine del testo, non sia solo prima del testo, ma anche prima di tutte quelle soglie del testo, come si diceva una volta, che sono appunto il frontespizio, il diritto d'autore, il colofon, addirittura il bollino della Siae. È come se questo territorio, questa terra, abbracciasse la scrittura e la contenesse, non permettesse un'eccedenza, non permettesse un'evasione. È come se appunto Belpoliti che in questi anni ha vissuto in un luogo che si chiama doppio zero, fondamentalmente, che fin dal nome si pone come fuori dalle coordinate spaziali e temporali, invece qui decidesse di fare il gesto opposto, di radicarsi, di riradicarsi, di rinnestarsi, diciamo, nel solco del proprio territorio. E questa autobiografia come cartografia, questa autocartografia che Marco ha scritto, ha un precedente nella sua opera, un precedente preciso, che è La Prova, un libro che venne scritto nel 2005 circa e pubblicato nel 2007, poi è stato ripubblicato dopo dieci anni. In quel libro Marco raccontava un viaggio che aveva fatto in compagnia di un cineasta amico, Davide Ferrario, il quale a sua volta aveva fatto un film da quel viaggio, La strada di Levi, perché appunto loro hanno rifatto, rifescero l'itinerario che Primo Levi aveva seguito appunto nel viaggio di ritorno da Auschwitz a Torino, ma con una peregrinazione infinita. E questa peregrinazione appunto ha abbracciato praticamente tutta l'Europa dell'Est, per cui rifare lo stesso viaggio a 60 anni di distanza in realtà significa viaggiare nello spazio, ma anche nel tempo, perché appunto si guarda come l'Europa è cambiata in questi 60 anni. Ma soprattutto quello che lì veniva brevettato un po' da Marco è l'idea di un viaggio come ripetizione di un viaggio altrui, come ritorno sostanzialmente. La fenomenologia del ritorno è molto cara alla poesia del Novecento. Penso a un autore che qui non è citato, ma che praticamente ha messo in scena i ritorni in ogni sua raccolta, che è Vittorio Sereni. Per lui vivere era sempre ripetere un'esperienza fatta in precedenza, fatta in passato. Ma questo in realtà è un connotato non solo della poesia, bensì propriamente appunto dell'autobiografia. E questo il genere, per così dire, o il modo del discorso per essere meno canonici, che implica uno sguardo strabico. Da un lato si scrive nel presente, ma dall'altro si rinvia sempre al passato. E questo per Marco, già nella prova, ma qui in maniera ancora più dichiarata, e ancora più sperimentale, diciamo, è appunto un gesto trasgressivo. Lo dice a un certo punto esplicitamente. Come sai, tutta la cornice del libro è rivolta a una seconda persona che può ricordare vagamente quella di Se una notte nemmeno un viaggiatore di Calvino, ma tanti altri testi. In realtà penso forse a un libro più vicino nello spirito a questo di Marco, che è La modificazione di Michel Butor. Per questo, come sai, si rivolge appunto a un tu che è un doppelganger, che può essere un amico d'infanzia, di giovinezza, realmente esistente, ma può essere anche uno specchio, può essere anche una controfigura, un avatar. Come sai, io sono sempre vissuto nel presente, non nel passato, e neppure nel futuro, ma proprio nel presente. E infatti è così che io ho conosciuto Marco, un uomo che conosceva tutto del passato, recente, enciclopedicamente, in letteratura, come nelle arti visive, come nel cinema, come nella musica, e questi materiali sono presentissimi in questo libro, ma al contempo dichiarava, affermava, con una sprezzatura e anche una provocazione, anche nei confronti di certe mie passioni, manieristiche, iperletterarie, di voler essere completamente affrancato dal peso, dall'angoscia, dell'influenza di questi maestri del passato. Cioè, io vivo nel presente, il presente è la contemporaneità, e su questa parola contemporaneità abbiamo discusso infinite volte, ci sono vari saggi che Marco ha scritto in questi anni per cercare di definire questa dimensione sfuggente. La contemporaneità per lui era veramente lo stare sul ciglio del presente, affrontare il presente in tutte le sue contraddizioni e in tutte le sue potenzialità. E quindi non invece la visione anacronistica che ha codificato negli ultimi anni per questa parola, per esempio, Giorgio Agambena. Per lui contemporaneo è per l'appunto luogo dove si scontrano e si incontrano più prospettive diverse, il passato, il futuro, la prefigurazione, la ripetizione, eccetera. E questo ovviamente dietro c'è tutta la filosofia del Novecento, no? C'è Heidegger, c'è Benjamin, c'è Bloch, eccetera. Ecco, ma invece per Marco la sfida era raccontare il presente, vivere il presente, anche se questo presente era un presente enciclopedico, nutrito di una massa di letture, di esplorazioni, di curiosità che non aveva confini, non aveva frontiere, appunto. Ecco, questo libro invece cambia un po' la prospettiva. Cambia la prospettiva perché ci racconta le radici. C'è un libro di Primo Levi, al quale lui è molto legato, che è La ricerca delle radici, dove Levi semplicemente faceva un'antologia delle letture che lo avevano formato. Cioè, antologizzando dei passi che per lui erano fondamentali, questi passi erano parti del suo corpo, erano membri del suo organismo, non erano più distinguibili dalla sua identità. Sia quelli che lui amava, sia quelli che magari odiava, come Paul Zellan, entrambi, però, questi materiali, questi classi di materiali, entravano nel suo corpo come, dirà in quell'occasione a proposito di Zellan, un innesto. Un innesto è una metafora, diciamo, botanica, ma in realtà era anche una metafora quasi chirurgica, quasi di integrazione fisica, fisiologica, corporea. Ecco, qui si mostra come le radici siano appunto questo, siano dei viticci, dei lacerti, delle florescenze che ci fanno rifiorire, ci fanno vivere in fondo. La nostra contemporaneità, in questa accezione, è data appunto da questo palinzesto, da questa humus che ci nutre, e con la quale possiamo avere anche un rapporto conflittuale, a volte, anche un rapporto difficile, perché ce l'abbiamo con noi stessi, in realtà. E questo libro non nasconde nulla di questa dimensione. Per esempio, a un certo punto, si pone il problema delle radici, anche ideologiche, politiche. Da dove viene Marco? Io lo sapevo, perché lo conosco da una vita, ma non è così ovvio sapere che il Marco Belpoliti di Doppio Zero, il Marco Belpoliti del Contemporaneo, in realtà era un punk paranoico emiliano, della classe dei CCCP e di Giovanni Lindo Ferretti, che nel capitolo più bello del libro diventano dei compagni di strada, ma diventano degli avatar, diventano delle figure persecutorie e totemiche, come questa Annarella, questa Cindy Sherman della Bassa, che in qualche misura è un demon erotico, una figura di seduzione, ma è anche una figura di se stesso, della possibilità di trasformarsi, di modificarsi, di appunto superare ogni volta se stessi. Perché questo è un po' il paradosso, cioè si guarda al futuro, ma contemporaneamente si guarda al passato. Ovviamente con questo disegno, con questa mappa, il pensiero va subito al precedente più diretto, che del resto è citato in uno dei primi capitoli, e cioè i narratori delle pianure di Gianni Celati, che a sua volta introduceva una mappa molto simile, non disegnata a mano però, appunto all'inizio del libro. Una mappa più o meno identica, si parte dall'Interlanda di Milano, si scende verso Piacenza, si attraversa il Po varie volte, si segue il palinsesto tra via Emilia, con qualche digressione, e poi si arriva a questa famosa foce, che è un po' il simbolo, chiaramente allusivo, della dimensione autobiografica di Celati, perché qui c'è naturalmente il delta del Po, a un certo punto, questo andare verso le origini, per Celati, era anche un andare verso invece una fine, una foce. E io mi sono chiesto, se Marco veramente vuole affrontare questo percorso, dovrà confrontarsi con un negativo, che forse dal punto di vista del carattere, del temperamento, in realtà non gli appartiene. Lui sappiamo la venerazione, la devozione che ha nei confronti di Gianni Celati, che io condivido appieno per quanto mi riguarda, anzi è stato lui a trasmettermela, però questa dimensione del Celati degli anni Ottanta, nutrito di Heidegger, nutrito di pensiero del negativo, e nutrito anche di una sostanziale malinconia storica inelaborata, tutto sommato invece gli appartiene fino a un certo punto. E infatti il libro non finisce con la foce, non finisce col delta del Po. Ci passa, prende in considerazione questo approdo, inevitabile, perché non possiamo fingere di non sapere che alla fine del nostro percorso quello ci sarà, ma poi fa un passo indietro, che però è anche contemporaneamente un passo in avanti. La conclusione è nella chiesa di Reggio Emilia, dove sono sepolti i suoi genitori, i nonni, i zii, la gente, la gente della terra, quella appunto dove stanno le radici. Quindi è un'immagine di morte? Sì, in un certo senso, certo, è un'immagine di morte. Però è anche un'immagine di vita, perché questi genitori, queste radici, questo passato, è vero, il politico guarda come forse arrivati a una certa età, ciascuno di noi inevitabilmente è portato a fare, ma contemporaneamente appunto annuncia e ribadisce di non essere condizionato da questo legame, e anzi dichiara, anzi, in un capitolo che è il capitolo chiave, se il capitolo dei CCP è il capitolo più coinvolto, dal punto di vista emotivo, sentimentale, c'è un capitolo molto duro, che ha un titolo a effetto, che ricorda quelli del sistema periodico di Primo Levi, Aceto. Perché il padre era appunto uno che faceva l'aceto in maniera artigianale, secondo la tradizione modenese, in casa, e aveva messo in casa in una damigiana, se non sbaglio, la madre dell'aceto, che è un termine, io non lo conoscevo per la verità, che designa proprio quel vino che viene lasciato aperto e che produce quella flora batterica che poi produce a sua volta l'acido acetico che fa l'aceto. Quindi ogni aceto ha una madre, ogni aggressività che noi possiamo concepire nei confronti della nostra identità culturale, ogni presa di distanze che possiamo prendere appunto da quello che siamo stati e che magari pensavamo che saremmo diventati e che non siamo diventati, perché poi alla fine non si compie mai questo percorso, per fortuna, quest'aceto ha una madre, ha un'origine, è qualcosa che sta alle radici, anche quello. Quindi alle radici c'è la tenerezza, l'affetto, la volontà di omaggiare anche i propri cari, e questo è sacrosanto, ma contemporaneamente c'è anche la consapevolezza che se si è diventati qualcosa di diverso, se si è vissuti, se si è fatta la strada in avanti invece di quella indietro, è perché a un certo punto questo aceto, questa madre aceto, la si è lasciata alle spalle. Ed è quello di cui Marco si rimprovera in quel capitolo. È un capitolo molto forte, molto esposto, e a me, insomma, anche per motivi personali, mi ha molto colpito, insomma. e lì appunto si tocca con mano la doppiezza di questo atteggiamento, no? Da un lato appunto quelle radici vengono carezzate, vengono sfiorate dai polpastrelli con un'infinita delicatezza, appunto quella di Celati, quella di Ghirri, e contemporaneamente però si ha anche un atteggiamento aggressivo, polemico, nei confronti di quelle radici. Insomma, sì, ci si rimprovera di averle abbandonate, ci si rimprovera di non essere più il punk emiliano, ci si rimprovera di essersi integrati in un sistema della comunicazione, in un sistema dell'editoria, insomma, nella vita adulta, il lavoro, di cui Marco è schiavo a più di chiunque di noi. Ecco, però quella dimensione dell'autenticità, il gergo dell'autenticità, come lo chiamava Adorno contro Heidegger, è anche qualcosa contro il quale occorre reagire per poter vivere, occorre prendere le distanze, magari rimproverandosi tutta la vita per averlo fatto, però facendolo. E poi c'è un'ultima cosa che voglio dire, che è curiosa. Marco lo dice all'inizio, e questo non lo sapevo proprio, non me l'avevi mai raccontato, di aver fatto da giovane, da ragazzo, quando facevo al liceo, studi di geologia. Infatti, ovviamente, mi si apre un mondo, del resto, gli autori chiave sono tutti passati in rassegna, Montale, Zanzotto, figuriamoci proprio i miei totem. Ebbene, però, dice una cosa precisa all'inizio del libro, è una cosa paradossale, Marco, la mia autobiografia sarà una geologia, ma non è una geologia della profondità, bensì della superficie. È lì che nella nostra epoca si depositano le cose, e la mia memoria non è una stratigrafia, una torta a mille foglie, piuttosto una forma piatta, come la pianura dove sono nato. Caspita, questa effettivamente è un'idea di autobiografia veramente nuova, che aggira proprio tutti gli stereotipi, perché quella stratigrafia dell'io è quella freudiana, è la grande metafora, l'infinita metafora appunto di Roma, palinzesto, gli strati una dopo l'altra, l'archeologo, la psicoanalisi come archeologia, cioè il Novecento è questo, è questa grande narrazione. Invece Marco appartiene a un tempo successivo, che è quello al quale appartengo anch'io, lui ci è arrivato molto prima di me e mi ha mostrato la strada, che è un tempo in cui si conosce questa storia, ma non le si appartiene più. E si fa un lavoro diverso, che è un lavoro di esplorazione, come dicevano i suoi maestri, di cartografia, certo, con tutte le ambivalenze che alla metafora cartografica si possono associare, ma fondamentalmente una geologia della superficie, che è quasi un ossimolo, quasi un paradosso, eppure qui lo si tocca con mano. E lo si tocca con mano proprio nel capitolo dove si va a visitare la tomba dei propri genitori, perché la tomba dei propri genitori in quella chiesa San Prospero degli Strinati è per l'appunto una pietra. Una pietra che, una pietra piatta, una pietra che impone appunto un atteggiamento superficiale, nel senso ovviamente non emotivo del termine, ma proprio geometrico, geografico. Questa pietra appunto è una pietra lasciata ruvida, non lisciata, così che dà la sensazione di una roccia poggiata a terra, appena rialzata. La pietra è al naturale, per questo quando piove si formano piccole pozze d'acqua nelle concavità e si è tutta annerita. Sembra un pezzo staccato dall'appennino, un masso rotolato sin qui. E qui è la chiave appunto di questo atteggiamento strapico, no? Da un lato c'è la pietra che rimonta alla stratigrafia generazionale, genealogica, però questa pietra è anche una pietra piatta, liscia, dove scorre l'acqua. Ecco, questa pietra è l'immagine più precisa dell'io, forse, dell'io venuto dopo il moderno e anche dopo il postmoderno. È qualcosa che resiste, è qualcosa che sta lì, ma è qualcosa che si annerisce, che prende acido a volte, che ha un rapporto conflittuale con se stessa. Eppure sta lì, resta lì e qualcuno un giorno la va a trovare. grazie. Andrea. Molto suggestiva questo racconto, questo itinerario che hai fatto, avrei un'osservazione, però, questo forse poi lo chiediamo anche a Marco dopo, perché la pianura in realtà non è semplicemente una superficie piatta, ma è addirittura depressa, cioè è sotto il livello del mare. Questo comporta il fatto che ci siano tutta una serie di reazioni, tra cui la nebbia, che porta a creare questa figura della pianura come una condizione molto vicina all'essere, all'essere in un certo modo. Perché poi tra l'altro appunto aggiungendo questo tuo itinerario è anche un itinerario molto visivo, lo testimonia il fatto che in tutte le pagine, in molte dei passaggi del libro ci sono questi piccoli disegni che fai, che sono come degli appunti visivi che poi ritroviamo anche nelle parole, sono degli appunti visivi che ci fanno e di questo Marco è davvero maestro illuminare delle scene come se fossero proprio delle fotografie di Luigi Ghirri e che ci dicono tanto, molto, profondamente di quello che stiamo attraversando, in questa condizione dell'esistenza che è una condizione particolare, probabilmente unica al mondo e che davvero racconta una parte dell'essere, ma una parte dell'essere che è anche molto letteraria e a questo punto inviterei Emanuele a raccontarci se Marco non ha già qualcosa da aggiungere alle cose di Andrea, beh, che inutile dire che siamo tutti un po' emozionati di ritrovarci in una situazione del genere, chissà, ho visto con Andrea e Andrea non si è dimenticato come si faceva, quindi, dopo tanto tempo, io sono come Andrea, i due presentatori possono vantare una fedeltà molto lunga, che anche, cioè la vera fedeltà che poi si ha per uno scrittore è che a te ti interessa qualunque cosa che scrive, no? Non è che, in realtà, io non c'è un libro di Marco che non ho letto, è quasi un meccanismo magico e in senso buono, vorrei dire, perverso, nel senso che i libri delle persone su cui abbiamo proprio puntato le nostre carte poi sembrano rispondere senza che noi abbiamo idea, io non avevo idea che Marco stava scrivendo questo libro, a delle domande che ci poniamo noi stessi in quel momento in un caso più unico che raro molto emozionante mi è capitato due volte nel giro di pochi giorni perché ho letto questo libro e le geografie di Antonella Nedda e tutte e due le volte ho detto ma questa che cos'è la mente mia o la mente di queste due persone straordinarie che quando poi tutto viene dato per perduto, perso nel commercio rapido riescono a dare ancora profondità spessore all'antica alla parola letteraria perché io sempre più andando avanti ma non tanto nella mia carriera di scrittore che ha poco significato ma proprio nella mia vita nel tempo che passa mi chiedo sempre più spesso cosa significa l'espressione sentirsi a casa che cos'è perché ci sono dei posti in cui ci sentiamo a casa che possono essere posti in cui chiaramente perché noi proseguiamo una stirpe ma anche posti elettivi con un lieve moto psicotico noi possiamo anche sentirci a casa in un luogo che è completamente nuovo ad ogni modo questo non è tanto importante l'importante è l'idea che quando tu ti senti a casa sei un centimetro in un metro sei una mollica nel pane questa è una cosa che porta la tua individualità a confrontarti diciamo quello che gli antichi chiamavano il microcosmo e il macrocosmo e diciamo che io Andrea prima io ho sempre provato un'enorme antipatia per le cose che su questo tema ha scritto Heidegger perché proprio mi sembrano delle fesserie perché sono tutte di te cioè inautentiche veramente altro che anche lo dice anche Sebald in un suo bel libro sugli scrittori su cui Heidegger faceva queste operazioni no queste petizioni di principio sul sangue sul suolo non hanno semplicemente un aspetto terrificante perché così legate poi all'idea nazista sono proprio sbagliate di per sé anche quando vengono riprese in senso ecologico sono lievemente ripugnanti e proprio questo libro è una bellissima risposta perché evoca questa perché perché lui è uno scrittore vero e quindi lui ha sempre un argomento apparente e un argomento reale la letteratura è questa cosa qua è lo slittamento lo slittamento non enunciato parla di una cosa se fosse un filosofo perché il filosofo può andare dritto alla cosa reale perché il filosofo è un la lingua della filosofia è una lingua dell'universale c'è l'uomo la libertà quindi tu puoi arrivare noi lavoriamo con altri infatti non ci sono due cose più opposte della letteratura e della filosofia perché proprio lì c'è proprio un 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 divario proprio di metodo non di scontenuti e di sostanze poi poi se c'è il poeta che ha qualcosa di filosofico il filosofo che scrive bene ma queste sono delle contingenze il il problema è che il giuramento che il vero scrittore fa a se stesso è di non allontanarsi mai dal dal concreto da quello che vede da un metodo empirico perché solamente sfregando su quella pietra focaia poi c'è la scintilla dell'universale ma come risultato accessorio che si accende non in quello che ha lui da dire ma nella mente del lettore e quindi per tanto più lui ha bisogno di pietre d'inciampo quanto più noi siamo liberi in una simmetria perfetta perché lui appunto non ha Andrea l'ha descritto benissimo cioè è bella anche l'idea che venga presa da l'analogia con Vittorio Sereni lui ritorna ma perché ritorna perché il suo procedere è imperfetto perché il suo procedere si trova di fronte a degli enigmi perché per esempio lui non ha il problema l'hai detto benissimo parlando dell'aceto non ha il problema di confessare che noi siamo persone così imperfette che siamo custodi di memorie che poi muoiono con noi cosa fa? il padre gli affida la madre dell'aceto che gli è stato dato da un amico andiamo fino ai visigoti da sta maledetta cosa e che fa Marco? facendo doppio zero lo fa evaporare nella ma è bellissimo viene da piangere perché uno dice le tradizioni sono una cosa meravigliosa ma io devo vivere se noi viviamo come appunto quei fessi di cui parlavo prima pensando che siamo il vettore di tradizioni e le portiamo ce le incolliamo alla nascita e le distribuiamo uguali a peso uguale e che siamo dei cretini questa è l'idea poi heideggeriana del mondo pigliare la roba e trasmetterla senza curarsi di quello che è invece siamo persone lo scrittore in questo senso è proprio l'essere umano l'essere umano sbaglia non capisce mai niente e questa cosa qui è la sua forma di sapere anche perché la posta in gioco è enorme l'argomento reale se l'argomento apparente è l'essere a casa l'argomento reale è il tempo che noi il tempo non lo possiamo vedere noi non sappiamo che cos'è il tempo il tempo è come il vento tu vedi il vento per gli alberi di Velti quando passa la burrasca tu vedi gli effe ma il vento di per sé non lo puoi filmare non lo puoi dipingere come fa un pittore Bart lo sa benissimo prende e beh piega gli alberi no? quella è l'operazione di Marco va a vedere lì allora poi certo che il tempo c'è perché tutto trasuda di tempo però perché tu hai giurato fedeltà allo spazio perché proprio non ci pensi non lo enunci il tempo viene fuori tante filosofi Kant a scuola lo spazio è una provincia del tempo perché il filosofo ci può andare lì perché che gli importa se si vede o no è una categoria fa funzionare il pensiero noi non sappiamo fare questo se lui lo mettessi a scrivere un libro sul tempo impazzirebbe lui ha bisogno di parlarti degli amici che invecchiano queste sono le sue clessidre sono meridiane la pianura padana è come un'immensa clessidra un'immensa meridiana e questa cosa qua impone Andrea è come al solito bravissimo perché ha descritto tutto questo alla meraviglia io cerco sempre di parlare dopo Andrea nelle presentazioni così lui lo sa è proprio un patto tra noi ordine alfabetico così io vado proprio liscio e questa cosa lo può anche io mi sono interrogato sulla affinità del libro di Celati con la stessa cartina soltanto stampata ma disegnata e il suo e anche a questa proprio qui è un caso di proprio di quello che Errol Bloom nel suo libro forse più bello perché quando era più letterato perché poi Errol Bloom si è rovinato leggendo troppi libri di filosofia ecco cioè è proprio quella cosa che non deve mai fare uno scrittore e andare sul teorico il il clinamen dice nell'angoscia sull'influenza è quando qualcuno il clinamen è una metafora di Lucrezio che che parla degli atomi perché Lucrezio Epicuro il suo maestro diciamo quegli atomi tendono a cadere in una specie di gravitazione universale poi c'è l'atomo che scarta e da questo scarto imprevedibile viene fuori il mondo perché se no cadrebbero tutti i dritti non esisterebbero le cose non si combinano e quindi diciamo lui prende molto da Celati chiaramente infatti la genealogia di questo libro precisa secondo me è 70 cura del meridiano di Celati e poi la liberazione da Celati che è questo libro perché lui sapete Gianni Celati su di noi tutti ha esercitato un'influenza incredibile perché ci ha aperto delle possibilità e soprattutto quel libro narratori delle pianure come diceva Andrea perché quel libro è stato rivelatore che si poteva andare avanti intanto che poteva andare avanti i Celati perché se scriveva l'ottavo libro col monologo del pazzo all'anni 70 avrebbe avuto una vita molto più e questa cosa qui a metà degli anni 80 ne parlavamo per notti intere erano un altro tipo di una raccolta di racconti tra le più belle memorabili del novecento non ho bisogno di dirlo io ma era fondata su un unico atteggiamento mentre l'empirismo di mi spiego l'analisi di Andrea l'empirismo assoluto di Marco è fondato su molti atteggiamenti cioè Celati diceva io sono lo scrittore quello che ascolta delle storie esattamente riproducendo in se stesso e nella sua vita il famoso saggio di Walter Benjamin sull'Iescoff il narratore come l'uomo giusto che appunto sa ascoltare le storie e quindi l'ascolto è la forma stessa del racconto disse Celati in una bellissima intervista che rilasciò a Severino Cesari la mia preoccupazione maggiore è creare un alveo rituale per questa cosa qua questo alveo rituale è la raccolta di racconti come possibilità che la letteratura abbia un rapporto profondo con l'oralità e allora ce ne sono tra l'altro anche là viene fuori il tempo c'è un racconto meraviglioso in quella raccolta che si chiama Tempo che passa che è una visione e lo fa descrivendo i movimenti in macchina di una donna giovane che va a trovare i suoi genitori in quel mondo che era cominciato ad essere di svincoli di rotonde come lo conosciamo noi la padania di oggi questa cosa c'è tantissimo in Marco perché ascolta tantissime storie ascolta la storia dei Martinelli ascolta la storia del capitolo molto bello sul teatro delle albe però non è intanto perché si rivolge cosa impensabile nella prospettiva di Celati a un tu che poi non penso sia proprio un alter ego per un indizio perché è un matematico questa persona a cui si rivolge o un commercialista lui dice sempre hai a che fare con i numeri trovo queste due nella mia ignoranza queste due ipotesi del mistero ma poi perché racconta perché per esempio esercita in maniera volontaria la memoria l'hai detto tu benissimo sull'ultimo capitolo ha una perché nemmeno il modello l'escoviano di Walter Ben lo soddisfa lui moltiplica le armi si spende nel singolo libro tutto quello che ha imparato dai libri questa è la cosa che dice sempre Truman Capote nell'introduzione a musica per Camaleonti butta via tutto quello che sai non essere avaro no il talento non è un privilegio è una frusta e quindi vai questo è un atteggiamento e quindi chiaramente io non voglio fare l'elogio della letteratura da vecchio letterario la letteratura è un ordine di senso che è l'unico al mondo funziona per quello che dice per quello che non dice per quello che capisce per quello che non capisce per la sua acume per la sua autosità tutto fa parte di questa specie di creazione del senso per esempio quanto è squilibrato questo libro questo è un libro che io non so se lo presenti a Parma ti contestano cioè a Parma che capito la certosa di Parma tra l'altro e quel mondo è stato inventato tradotto da Gianni Celati degli stessi anni narratori e quel mondo è stato inventato da Standalla la persona che si accorta che la pianura padana era un spazio narrativo e Delfini amatissimo da ha passato la vita a dire che Modena in realtà la certosa di Parma era la certosa di Modena per dire quanto sono pazzi il Delfiniano Belpoliti toglie dal suo libro la mette perché a un certo punto arriva un luomo selvatico ma quanto queste dissimmetrie rendono visibile il mondo no? perché immagini uno che scrive con una specie di manuale sciencelli degli argomenti no? poi rende invisibile tutto quella è una cosa bellissima proprio Delfiniana cioè è un moto d'antipatia che si trasforma in significato è bellissimo e questo questo ci porta poi a fidare affidarci dei suoi atti di comprensione a farci una geografia nostra ad aggiungere al libro a sovrapporre a questa cartina mentre non potresti sovrapporre nulla alla cartina di Celati perché è una grande opera di un grande maestro che ha detto io vado in giro io ascolto quelle storie e ve le no? non c'è possibilità di infatti è stampata bravo questa è disegnata allora io per esempio ci ho messo Cesena perché Cesena c'è Mariangela Gualtieri c'è il teatro della Valdoca chiaramente ci ho messo Parma mi perdoni Marco ma io non sono così delfiniano e e poi quando arrivi anche alle cose sono molte pezzi di storia poi sono pezzi in comune in cui tu ti trovi no? tutto quello che dice su Giovanni Lindo Ferretti è emozionante perché è la nostra vita quello cioè in tutti siamo diventati Emilia Paranoica ci ha reso tutti emiliani è come è quello la 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 cosa bella di Marco però un'altra cosa che diceva benissimo Andrea non si torna solo sui luoghi si torna sulle persone e lui i Martinelli Lindo Ferretti li conosce da così tanto tempo a un certo punto c'è una cosa sublime dice a un certo punto mi sono reso conto che Giovanni Lindo Ferretti sapeva cantare e da quando lo conosci? dall'asilo perché cioè noi tutti lo conosciamo poiché sapeva cantare e quindi è bellissimo perché vedi come appare il tempo poi noi il tempo se non sei un filosofo lo vedi con gli amici che invecchiano magari si rincoglioniscono non sono più bravi oppure magari poi in estremi si dimostrano che erano e quello è il bello di avere questa attenzione alle cose che ci sono prossime insomma ci sono prossime ci sfuggono te le dimentichi la madre si secca ma tu sei andato avanti autenticamente capito ci hai fatto vedere una cosa a proposito del tempo qui vorrei chiudere anch'io anche perché ho il piacere di vedere Marco se vuole dire qualcosa o gli facciamo noi qualche domanda non lo so come proseguiamo qual è la storia che mi è più piaciuta è in una riga lui la dice su Annarella dei CCCP dice quanto tempo ci ha messo Cappuccetto Rosso a trasformarsi in un lupo beh bella storia questa è la nostra vita e Marco davvero poeta dice qual è l'elemento di questa cosa quanta ingenuità serve per fare quello qua si apre un altro libro un libro che si scrive dentro di noi cavolo questo è bellissimo quindi vorrei finire qua perché approfitto della bellezza della cosa che ha detto Marco per finire la mia parassitando anche questo grazie 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 io adesso mi alzerei andare via diciamo come moto spontaneo no sorpreso un po' anche atterrito e preoccupato e soprattutto emozionato ecco perché non non mi aspettavo Emanuele Andrea che voi diceste queste cose francamente cioè vi siete comportati non da critici letterari raffinatissimi scrittori quali voi siete vi siete comportati da amici ma in un modo particolare ecco cioè quell'amicizia che nasce non solo dalla conoscenza diciamo dalla pratica anche fisica nasce dal fatto che essere amici non perché si diventa amici ma perché si è già amici e in questo caso diciamo l'amicizia è nata anche con le parole attraverso le parole gli uni degli altri parole dette e parole anche scritte quindi esiste qualcosa prima questa qualcosa prima appunto è l'amicizia poi quando questa cosa si esplicita per il mio carattere mi rende anche diciamo in un certo imbarazzo allora mi ha scritto un signore sull'indirizzo dell'università dove adesso ha scritto un sacco di gente per dimmi gli errori che ci sono nel libro un signore di Parma mi ha scritto lei non ha messo tra gli affluenti del Po il Parma anzi lei ha messo il torrente che entra nel Parma prima di Parma ma io l'ho apprezzata lo stesso lo so che lei è di Reggio Emilia e voi di Reggio non ci amate molto mi ha scritto proprio così però guardi il libro mi è piaciuto molto e la ringrazio molto con grande affetto eccetera eccetera probabilmente era anche uno storico locale uno che comunque tra le righe diciamo perché poi le ho risposte dicendo grazie l'errore adesso vedo di correggere la ragione ho messo il Parma e certo sono di Reggio questa ragione gli ho detto guardi che io le acque le conosco bene perché vado a pescare soprattutto vado su nell'appennino a pescare quindi è chiaro è un libro pieno di omissioni pieno di lapsus pieno di cose che forse non volevo neanche dire che invece sono venute giù così pensando di fare della letteratura sai cioè non è pensavo anche come dire di scrivere qualche frase bella eccetera e invece ho scritto delle frasi che parlavano più di quanto io volevo far dire a queste frasi adesso le cose che ha detto Andrea mi colpiscono molto intanto Andrea io panchettone non sono mai stato qui ci sono dei testimoni io non sono un testimone secondario e la sorpresa di Ferretti è la sorpresa che è un punk in enorme ritardo cioè storicamente è in ritardo quindi questo ritardo per me era come dire significativo perché passa il gruppo passa la massa c'è il rumore le bandiere i suoni eccetera e poi arriva Ferretti quando la festa è finita e qualcosa dice di inatteso anche proprio perché non era non era sincrono ecco non era sincrono non viveva nel nel contemporaneo cioè il contemporaneo l'ha fatto esistere rispetto a se stesso alla propria storia al proprio percorso e un po' anche queste altre persone qui c'è anche il lavoro di di Ervante Giannichian e di Angela Ricci Lucchi è vero l'abbiamo visto insieme ecco che sono anche questo per dire un po' come raccontato nel libro è una cosa totalmente casuale cioè io vedevo questo qua che faceva vedere delle pellicole agli studenti nella stessa scuola dove insegnavo io dei film che non si trovavano in giro e che io mi sembra di ricordare adesso Ervante non l'ho più rincontrato perché Ervante è anche abbastanza una persona abbastanza difficile mi ricordavo che fossero delle pellicole sì delle pellicole io ho chiesto ma dove hai trovato queste pellicole queste pellicole di allora lo diciamo perché è interessantissimo lui dedica un capitolo a un'opera straordinaria che si può vedere qui è qua dietro sì dietro questi muri no era sorprendente eccetera insomma però appunto l'ho trovato all'istituto d'arte di Monza nell'aula dove io insegnavo storia del pensiero scientifico di là c'era l'aula di cinema insomma e così è nato un po' un po' di questa di questa strana frequentazione è andata avanti per un po' di anni anzi in modo molto amicale anche i viaggi fatti a Lugo a casa di Angela poi siamo andati a Cortina dove c'era la famiglia di Ervante suo padre farmacista insomma sono un po' capitate queste cose ecco in un certo senso anche questo libro è un po' capitato Andrea lo sa bene perché un giorno a pranzo gli ho letto l'inizio del libro dal cellulare dove l'avevo scritto e me l'ho automandato volevo leggere l'inizio ad Andrea diciamo le prime tre pagine del libro e lui mi ha mi ha incoraggiato ad andare avanti con il tu ecco dicendo che questa era una forma che poteva funzionare insomma era interessante il libro era già scritto in buona parte a quel punto l'ho riscritto molte pagine le ho riscritte piegandola in quella direzione alcune volte sono venute meglio altre un po' meno perché poi diciamo ha ragione Emanuele che è un libro sbilenco è un libro sbilenco come probabilmente sono sbilenco io è un libro contraddittorio come dice Andrea perché c'è un passo in avanti poi c'è un passo indietro comunque sicuramente è il libro con cui ho fatto i conti con con le mie radici con quello che io immagino che siano le mie radici perché chi lo sa poi dove dove affondano dove affondano le radici della mia vita non lo so è abbastanza è abbastanza oscuro ecco a me non è non è molto non è molto chiaro è probabilmente anche vero come dice Emanuele che è una presa di distanza sicuramente è una presa di distanza anche da 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 Celati perché comunque sicuramente è uno scrittore che mi ha molto condizionato ma che effettivamente con me condivide molto poco o meglio io condivido molto poco probabilmente letterariamente rispetto a lui questo per me è un modo per capirle gli scrittori cioè ci deve essere una diversità ma non così grande da tenerli lontani e non dico renderli odiosi ma o antipatici ma indifferenti ecco l'indifferenza della lontananza l'indifferenza poi si esercita andando in metropolitana sul tram rispetto agli altri che poi magari non è vero perché poi approfondendo ogni cosa e Andrea lo sa meglio di me perché ha fatto gli studi in quella direzione approfondendo anche autori che non credevi vicini a te poi lo diventano lo diventano anche nel tempo nel cambiamento che ciascuno di noi fa è vero Emanuele che il tema del tempo è davvero il tema è un tema è un tema centrale Gelati è molto diverso da me caratterialmente a volte è stato anche abbastanza insopportabile è faticoso è anche la corrispondenza con lui averlo ospite insomma diciamo che era di un certo impegno poi con gli anni si è anche un po' addolcito man mano che questa malattia andava aumentando un po' di dolcezza l'ultimo incontro che mi ha avuto a Bologna a casa di Jean Talon era diventato di una dolcezza infinita e Gianni è la dolcezza ma è anche esattamente il furore tutto il contrario l'insopportabilità eccetera ed era probabilmente la ragione per cui l'ho anche amato cioè che fosse davvero insopportabile rispetto alle cose insopportabili che io tendevo a sopportare della letteratura di questo sistema delle altre delle altre cose insomma abbastanza faticose vedete che non riesco a uscire molto mi avete cacciato in un angolo diciamo dell'autobiografismo che è molto faticoso perché perché è vero che è un libro autobiografico io l'ho ripreso in mano e l'ho letto non tutto l'ho letto una parte e ho pensato che fosse il libro di un altro cioè che l'avesse davvero scritto un'altra persona è un libro pieno di bugie è un libro pieno di falsità di distorsioni ho cambiato un sacco di cose qualche cosa probabilmente me lo sono me lo sono inventato però non riesco più a un certo punto non sono stato più capace nel momento in cui l'ho battuto a macchina l'ho messo sul computer l'ho stampato non sono più riuscito a distinguere ciò che era vero da ciò che era falso da ciò che era profondo da ciò che era era superficiale allora il tema della superficie sicuramente probabilmente è il tema su cui io ho insistito anche ideologicamente se vogliamo dire così cioè la lettura che io ho fatto di Calvino è questa ecco a me il Calvino che interessava di più è il Calvino su cui ho scritto meno di cui mi sono interessato meno che è più problematico da cui ho imparato molto è quello dei passaggi obbligati cioè il Calvino dell'autobiografia senza io ecco allora questo Calvino mi ha insegnato a usare il tu che è una piccolissima invenzione che probabilmente deriva da cose viste, lette altrove però è stata come una necessità una necessità proiettiva di proiettare addosso a questo tu degli aspetti che appartenevano più come dire più intimamente a me insomma e comunque è un dialogo ecco è un dialogo con me stesso è un dialogo con una persona che esiste che però anche inventata in una certa misura è un dialogo anche con con le radici se posso dire insomma in questo senso anche la dilattazione spazio-temporale di risalire i Liguri anche più indietro alle popolazioni della pianura e anche come dire per far cessare una narrazione che è stata veramente pesante in tutti questi anni mi ha portato a scrivere anche questo libretto su Bossi insomma questa lettura politica se si può dire antropologica così era anche un modo di affermare qualcosa di diverso questo più o meno consapevolmente però il tema della superficie resta il tema della sostanzialmente la cosa fondamentale per me non solo per la pianura non solo per diciamo anche in termini di mancanza di profondità ecco questo non è un libro profondo è un libro superficiale c'è dell'altro sotto e qualche uno che mi conosce bene me l'ha già spiattellato davanti che è la storia della mia famiglia che io ho omesso ma non poteva omettere tutto perché diventava come dire troppo bugiardo ecco qua bisognava dire qualcosa comunque c'è la madre con la M maiuscola che è quella dell'aceto c'è mia madre di cui io dico molto poco mi ha fatto notare una persona che mi conosce bene quindi è anche un libro di omissioni ecco e in questo senso forse ti ringrazio molto Emanuele per quelle cose che hai detto forse per questo che è un libro letterario non per la lingua in cui è scritto non per le cose che racconta non per i personaggi che ci sono dentro come dire le visite a studio le visite agli amici della mia vita ma è è un libro letterario perché è un libro abbastanza come dire pieno di omissioni compresa l'omissione più grossa che è quella di mettersi a disegnare quando non so proprio disegnare per nulla grazie quindi ci si perde nella pianura diciamo così se volete c'è qualcuno che vuole fare delle domande o considerazioni Stefano vai vai Stefano ma io sono un lettore purtroppo come come Emanuele e Andrea parziale perché la parzialità deriva dai decenni di frequentazione con Marco e dal fatto che di questo libro ho sentito parlare praticamente per più di vent'anni diciamo prima di leggerlo quindi sono sono stato come dire preparato ma in realtà poi è stata una sorpresa assoluta quella che ho scoperto leggendo il libro sono state dette cose estremamente interessanti intelligenti e rivelatrici proprio sulla natura di questo libro ci sono molte cose che sulle quali diciamo che sono state anticipate e nella risposta di Marco naturalmente ci sono molte cose che penso e che ritengo essere proprio il nucleo di questo libro ma mi ha colpito se posso portare diciamo una testimonianza da semplice lettore in molti episodi naturalmente già citati sono tutti interessanti e tutti come dire illuminanti ma mi ha colpito molto per un motivo che egoisticamente forse perché è quello che capisco meglio che ho l'illusione di capire meglio l'episodio dell'incontro con Garboli sapendo che per più di vent'anni Garboli mi è stato additato da Marco come la sua criptonite sostanzialmente cioè come il concentrato di iperletterarietà da cui lui fuggiva appunto come superman con la criptonite mi ha molto sorpreso che in questo libro la figura di Garboli assuma un ruolo così importante in realtà perché è quello che dice a Marco chi è Marco lo dice non parlando di Marco ma lo dice parlando di delfini sono un banale lettore i delfini non ne sono nulla in realtà ma come sapete appunto in delfini si sommano molte delle contraddizioni del novecento italiano il fascismo e non la provincia e la città l'estetismo e il realismo insomma è una figura estremamente affascinante e mi ha molto colpito appunto da un lato l'episodio in sé della visita a Camaiore se non sbaglio da appunto da Garboli che è di tutti quelli di tutti gli episodi che ho letto nel libro paradossalmente quello più letterario cioè è una vera e propria scena letteraria quella che ci si parla di fronte addirittura con l'espediente di attribuire alla casa fisicamente visitata da Marco le qualità del suo occupante e la trasformazione di quella casa in un bed and breakfast più o meno di lusso è anch'essa una metafora abbastanza affascinante di come di come un certo modo di essere letterati è mutato ma quello che più mi ha colpito se mi passate il libro io ho fatto la foto sul telefonino ma è veramente penosa se no la performance mi ha molto colpito se riesco a trovare la pagina come appunto ci sono due o tre cose che dunque vediamo se riesco a trovare Garboli parlando di delfini provava una doppia emozione quella da cui nasce la spinta a scrivere e insieme quella che invece scaturisce dalla scrittura stessa poiché esiste anche un'emozione della scrittura e delfini la provava in modo evidente era emozionato in buona sostanza lo scrittore modenese era incapace di assumere la maschera dello scrittore di mettersi a distanza e di mediare tra il suo sentimento e il sentimento stesso dello scrivere ora la cosa stupefacente che diciamo Garboli sta parlando di delfini ma ai miei alla mia diciamo impressionabilità di lettore questa sembra una perfetta descrizione dell'atteggiamento dell'atteggiamento a volte letteralmente impossibile che Marco ha sempre assunto di fronte al suo essere e all'essere già stato uno scrittore perché appunto c'è questo elemento biografico che credo qui nessuno in sala ignori ma che forse non è notissimo del fatto che Marco non esordisce come saggista e come critico e neppure come giornalista ma come letteralmente autore di libri letterari cioè di soprattutto di un grande libro Italo che è stato insomma un po' la sua l'opera insomma che lo ha imposto anche un po' all'attenzione e poi alla fine di questo già molto ricco capitolo su Garboli e delfini arriva una confessione dice e con queste parole quel giorno Garboli sanzionò in modo definitivo il carattere di chi vive in questo pezzo della pianura puerile strapaisano e ribelle delfini era un modenese meglio un emiliano allo stato puro e poi c'è una conclusione che dice esattamente e c'era un altro paradosso che mi si illuminò allora proprio perché sono puerili paesani e ribelli gli emiliani appaiono così goderecci e pratici insomma lui si mette in una genia insomma a cui ovviamente di cui uno dei capostipili quantomeno è delfini ma ci si include ecco io trovo estremamente rivelatore e non so Marco se tu sei d'accordo probabilmente no ma con questa con questa mia lettura che che trovo estremamente importante dal punto di vista proprio di una coscienza dell'autore in qualche misura beh c'è il finale che non che io ho messo di leggere Antonio Delfini aveva compiuto un capolavoro fallire in modo perfetto scrivendo dei capolavori è chiaro che beh insomma diciamo che comunque l'elemento della contraddizione è l'elemento come diceva prima anche Andrea insomma questo elemento contraddittorio io non so adesso poi lo chiedo faccio io la domanda a Emanuele ecco la letteratura del novecento diciamo di quelli che sono stati i nostri maestri sia nell'ambito critico che nell'ambito letterario credo che sia fatta soprattutto di essere contraddittori non solo e non tanto umanamente ma anche dal punto di vista letterario ecco adesso per dire insomma quello che c'è pure la frase qua fuori delle lezioni americane di Calvino a me Calvino pare uno scrittore estremamente contraddittorio estremamente contraddittorio umanamente sessualmente politicamente e persino letterariamente perché proprio quel libro che tu hai citato che è il libro che io amo meno di Calvino ed è quello che ho fatto sempre più fatica a spiegare agli studenti a scuola cioè se è una notte d'inverno un viaggiatore è un libro iper contraddittorio dove c'è uno scrittore che vorrebbe essere dieci scrittori diversi e alla fine forse non riesce neanche a essere se stesso ecco si deve raffigurare Silas Flanery questo personaggio che insomma vorrebbe essere una mano che scrive senza avere un corpo ecco diciamo se c'è uno scrittore che nonostante il fatto che abbia voluto essere privo di corpo e invece ce l'ha così tanto secondo me che è il corpo della scrittura e Calvino poi per non dire Pasolini insomma in cui la contraddizione è talmente eclatante che è diventata la sua la sua struttura la sua colonna vertebrale è quella che lo tiene dritto che lo tiene in piedi che lo fa essere un bipede che cammina e che quindi anche provoca che comunque fa tutto quello che deve fare quindi penso che un po' questo elemento della contraddizione che fa parte dell'imperfezione che prima evocava Emanuele penso che come dire sia stata anche un po' in una certa misura è la mia fortuna ecco dopo che pago lo psicanalista per aiutarmi non so se c'è tempo però una piccola curiosità per abbassare catastroficamente il livello o forse invece il contrario cioè c'è un capitolo per me misterioso innanzitutto perché il testimonio all'interlocutore io lo ignoravo completamente mi sono sentito proprio una merdaccia che è Sandro Vesce il capitolo sui Pispiò quello è una cosa tu dicevi prima mi avete messo all'angolo quella è una figura di angolo in realtà è una sorta di antivespasiano però sta lì e veramente è una presenza misteriosa per me in questo libro beh è misteriosa sicuramente la figura di Vesce cioè Vesce che è un giurista che fa il prete operaio si dimette da prete e fa lo psicanalista per me che è stata una cosa sorprendente e per vent'anni scriveva questi librettini e li spediva e sono andato a presentarli quando li ha raccolti non ancora stampati in un libro ma raccolti in un contenitore di legno fatto da lui dove ci stavano tutti dentro insieme al vescovo di Modena sono andato a presentare questo per me Vesce è un personaggio sorprendente questo libro per un cristianesimo non religioso era il libro più beneferiano che esistesse sulla faccia della terra in Italia in particolare in un momento in cui tutto andava verso il marxismo cristiani per il socialismo altre cose quello camminava in una direzione originalissima profonda teologica e scritto su dei foglietti distribuiti fotocopiati nella parrocchia di Modena dove lui era prete per cui per me Vesce è sempre stato un mistero ecco quindi non è Spio? beh i Spio io li ho sempre visti non sapevo che si chiamavano così ho sempre notato questo arrotondamento nello spigolo per impedire di appartarsi perché le città erano piene di spigoli non c'era stato le Corbusier non c'era stato diciamo non si può fare la pipì sotto l'unità d'abitazione ecco cioè è vero che ci sono i plinti eccetera ci si può un po' nascondere ma insomma la costruzione di queste città che poi rappresentano anche un po' la nostra anima il genus logico che Stefano contesta di cui contesta l'esistenza cioè le nostre città sono degli conglomerati di superfettazioni ecco adesso girando per Roma e guardando in alto cioè non solo perché sono state sono create delle città sopra le città poi Calvino insomma in Palomar lo racconta abbastanza bene questa sorpresa di questo uomo ligure che poi la propria mente si è trasformata nella forma del cardo decumano insomma delle linee rette di Torino dentro cui poi il Po fa tante curve e quindi è l'impazzimento di Nice e il suicidio di Levi e il suicidio di Lucentini e il suicidio di Salgari ecco quindi l'Italia è un paese così è un paese estremamente contraddittorio ma i Pispiò sembrano proprio questa roba abbastanza palese ecco tu ne hai un'interpretazione diversa? ma forse più di una anche però volevo sentire sarei curioso di sentirtelo dire Emanuele dai l'ultimo passaggio concludiamo allora benissimo sono grazie cioè grazie a Marco soprattutto credo che poi le cose belle abbiano anche un riflesso in chi ne parla per cui siamo andati no vero Andrea Stefano siamo andati in abbondanza perché il tuo libro ci ha fatto venire in mente tante cose poi vorrei magari in privato spiegare delle cose a Stefano no dei pispio penso che lui interessi più il prete psicanalista che ne parla che l'oggetto in sé questo è interessante perché uno ci sono anche a Venezia del resto delle cose di sì diciamo che Roma è un posto dove raramente qualcuno e anzi fare pipì per strada è incoraggiato è premiato ci sono città dove Modena Venezia dove fa parte dell'etica di Tito Livio c'è proprio quella cosa lì quindi non ne ho visti mai tanti paesi dove dice beh magari puzza ce ne sono di più in contesti però ecco sempre questa cosa qui la tua domanda non è tanto mai la cosa ma per esempio l'aceto di cui parlavi non è interessante è interessante suo papà e l'amico che vanno nell'acetaia rischiando di cadere salgono sulla scala riescono a portare su anche pesi enormi in una maniera allora lui dice rendono interessante l'aceto capito è la passione tipicamente padana per cose strambe che chiaramente lo affascina credo no bene bravo Marco perché mi ha molto colpito sì il tempo perché tu dici a un certo punto che la pianura non ha tempo però il tempo del libro sembra a volte molto poroso come se si è parlato di contraddizioni a me sembra che ci siano dei ritornelli dei ritorni ogni tanto come nella mente penso che ne so a San Martino ma anche a piccole altre cose come se il narratore si rifrangesse un po' anche quando per esempio è da Giulia in quella stanza che non ha tempo con i mobili che lei pensa cioè all'improvviso uno cade nella porosità nell'aldilà nel ritorno tutto quello che le è accaduto quello che pensa quello che era prima come se i personaggi si trasformassero e cadessero proprio in questa specie di tempo a volte molto non lo so come dei tesserati non lo so come delle pozze ecco di tempo di spazio così e poi riaffiorasse da un'altra parte ogni tanto poi si voltasse e allora a Bologna e c'è Celati che passa che poi Celati è sempre quell'età così ecco volevo chiedere ancora qualcosa di questo di questa assenza di tempo che mi ha tanto colpito penso che allora sicuramente ha contato molto il tempo che ci ho messo per scriverlo no che non è casuale nel senso che è vero come diceva Stefano a cui poi ho ripetuto che questo contratto l'avevo fatto con Ennaudi molto molto tempo fa che avevo provato a scriverlo poi non c'ero riuscito e poi insomma poi era un pensiero ritornante e poi la scrittura invece è venuta diciamo quella definitiva poi salvo naturalmente diciamo un po' di artigianato come si fa sempre poi anche quando con l'editor ci abbiamo lavorato quando l'hanno letto gli altri mi hanno dato qualche suggerimento ho spostato pochissime cose ho tagliato poche cose e diciamo è esattamente come l'ho scritto e il tempo è stato di tre mesi allora un po' forse questa questo tempo esterno questo tempo della scrittura ha permesso diciamo in una specie di rapidità perché mi avevo fatto un patto con me stesso di poterne scrivere un capitolo quasi ogni settimana poi non ci sono riuscito sempre permetteva anche le immersioni nell'altro tempo cioè quello della memoria quello delle storie delle cose che emergevano però questo senso diciamo così tu usi questo senso diciamo di una profondità di una pozza è un po' come come le pozzanghere le pozzanghere quando uno ci va dentro non sa quanto sono profonde cioè le vede da fuori pensa che no non è un pozzo no? ma magari va giù fino diciamo quasi al ginocchio un po' meno sono delle pozzanghere ecco il tempo è un po' come una pozzanghere all'averlo scritto e tornare indietro era proprio come come mettere i piedi in una pozzanghere che poteva essere di un centimetro o due d'acqua come anche di 20 centimetri ecco un po' il rapporto è stato così adesso l'ho detto in modo un po' psicologico non saprei dirlo in altro modo anche se ho studiato filosofia beh c'è anche c'è anche questa figura appunto che la pianura ha un suo tempo su questo su questo è in dubbio diciamo per me l'osservazione di partenza sulla pianura è il fatto che se io faccio una foto a Lodi poi ne vado a fare una a Cremona o ne faccio una diciamo a Reggio Emilia e faccio vedere delle foto a parte gli alberi poi lì si è mescolato tutto perché hanno piantato di tutto in ogni parte insomma gli abeti le betulle eccetera uno non sa dire di dov'è quel posto lì per la pianura è uguale dappertutto è un po' diversa basta sapere guardare però è sempre uguale questo sempre uguale non è solo un fatto spaziale è anche un fatto temporale ecco cioè che non c'è quasi nell'uguale non c'è tanta evoluzione insomma ecco che quindi tu ti sei spostato ma sei rimasto fermo quindi non hai impiegato tempo sì e senza tempo non hai impiegato tempo di andare un posto all'altro è l'immagine della nebbia che annulla la visione che annulla il tempo che ti permette o che non ti permette di vedere quindi crea una condizione totalmente sospesa e questo io credo è molto forte questo sembra un po' anche le atmosfere di Tarkovsky in qualche modo e Stalker è qualcosa che ha tutte delle sue regole e le sue regole questa cosa ne esce fortemente come una condizione esistenziale che poi si ripercuote sulla tua esperienza sulla tua memoria sulla tua in qualche modo questo viaggio di espiazione o di scoperta o di racconto o di fare i conti con la tua propria storia è stato molto importante i libri i due libri che hai scritto qualcosa di scritto che è stata una cosa curiosa perché io avevo scritto quel libretto su Pasolini Pasolini in salsa piccante e tu mi hai detto che io avevo provocato la scrittura di quel libro bellissimo che hai scritto sempre su Pasolini e mi avevi fatto leggere i primi capitoli e me li avevi mandati il fatto che tu abbia potuto scrivere un libro usando la prima persona singolare che coincideva con te mi ha dato la spinta ad anni di distanza per provare a scrivere un libro così anche perché quel libro sulla pianura io non ero riuscito a trovare la chiave per scriverlo prima ho capito che quello che avevo depositato nella mia memoria nelle mie fantasie nel mio passaggio poteva funzionare in una direzione insomma come l'avevi diversamente ovviamente Emanuele come l'avevi fatto tu una cosa molto importante dell'artigianato credo del nostro lavoro che prima ancora dell'editore prima ancora del pubblico prima ancora della critica c'è qualche cosa che riguarda proprio una persona di cui ti fidi poi tu hai raccontato la stessa cosa prima che hai letto dal telefonino ad Andrea perché avevi in dubbi sul tu certo queste sono cose che non non ti può risolvere nessun altro che un incontro con una persona che che in qualche maniera ti faccia da sponda in un momento io mi ricordo benissimo avevo cominciato a scrivere il libro su Laura Betti e te l'ho mandato perché ho detto vediamo se funziona questa cosa da questo punto di vista ne avevo già scritti sull'io ma quell'io lì riguardava anche dei temi di critica importante quindi era difficile e mi ricordo una liberazione un incoraggiamento che proprio è venuto dal fatto non che scrivi la stessa cosa perché poi ognuno scrive è diverso si cerca la propria strada ma che lo considerassi possibile perché poi la posta in gioco è questo noi cerchiamo di vedere la stessa cosa l'arte è quello se no siamo murati nella solitudine e quindi prima ancora di finire le cose questo mi sembra importante ti confronti perché quando sono finito ormai sono fatte bene grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille